Si chiama Sette Buonaventura, un'infermiera di 26 anni di età del Southford Royal Hospital in Inghilterra, la quale, pensate, ha subito l'amputazione della gamba per colpa di un tumore trascurato durante il periodo in cui la ragazza era impegnata nella lotta contro il Covid-19 e il famigerato coronavirus. Per mese ha avuto un fortissimo dolore nella gamba, che ha sempre ignorato, poi, quando si è fatta visitare, era ormai troppo tardi. Ad aprire si è sottoposta a un attacca, che ha disvelato la presenza di un sarcoma, in uno stadio già avanzato i medici non hanno potuto fare altro che amputare la gamba fino al ginocchio. La ragazza raccontava di aver trascurato i sintomi perché troppo concentrata nel suo lavoro in un momento piuttosto delicato, come quello relativo alla pandemia. All'inizio ha attribuito il dolore alle molte ore in piedi, quando per la situazione peggiorata si è fatto un attacca e ha emesso che si trattava di un tumore. Vi ringrazio in primis per la visione, vi ringrazio in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Dunque, la donna ha perso una gamba per colpa di un tumore. Grazie, al prossimo video da Leandro, un narratore italiano.